Giovedì 26 ottobre ci troviamo a Ravenna per un nuovo workshop di infoprogetto organizzato da Action Group. Editore, circa 200 progettisti hanno partecipato a questa giornata di formazione dal titolo edificio impianto. Molte le aziende che hanno potuto anche raccontare le proprie soluzioni tecnologiche. Allora vediamo il servizio che abbiamo realizzato. È stata una giornata interessante anche per la singolare partecipazione degli architetti che di solito si sviluppa nel one to one nel desk. Oggi invece ha avuto un ottimo riscontro anche già in platea, quindi diversi temi che solitamente vengono affrontati su domanda diretta. Nell'incontro successivo abbiamo avuto l'occasione appunto di svilupparli durante l'intervento in platea con un scambio di battuta anche molto interessante, quindi è stato un piacevole confronto con gli architetti.